De Falco In Pakistan Abbiamo perso il contatto con un ricognitore in Pakistan proprio la settimana scorsa Un momento, lo scienziato del Myanmar ci ha detto che Menendez usa il Selerium per una cyberarma chiamata Karma E se fosse questo Karma da battere i droni? Lo sai? Con De Falco potremmo divertirci parecchio Forse Perché non ci riscaldiamo un po'? Magari con qualche pugno Attento Vieni, soffrirai con me Cos'hai detto? Soffrirò con chi? Continuo a rivedere... Mio padre La notte in cui morì mio padre, fui rapito e drogato Solo ora ti ricordo Menendez Ho ucciso lui mio padre Woods mi ha cresciuto come un figlio ma mi diceva che era stato ucciso da un folle Uno sbandato Che cazzo succede? Soffrirai con me Per i peccati di coloro che ti hanno preceduto Perché non me l'ha detto? Woods Hudson E' colpa lui Per Josefina Oggi tuo padre morirà Oggi tuo padre morirà Si avvicinano Si avvicinano Ecco Sbloccato Unità Klo attive Armamenti online Granata via! Sì! Accancia i bersagli Vediamo cosa sa fare il bestione Altri S.I! Teniamo avanti Klo Noi ripariamoci dietro Sf Sforzano Patrima Drono nemico! Distruggiamo quel drone! Merda! Torna indietro, section! Anthem è a due chilometri verso il sud-est. I clon non sono certo delle unità, Amphibie. Salazar, Crosby, portateli all'asciutto, ci ritroveremo ad Anthem. Quelle truppe ISI del cazzo si appostano lungo la strada. Section, sottetto! Trovate un riparo, fa attenzione, section! Lotus e Maximus in alto a fornire copertura mentre avanziamo in strada. Riparati! Section, Lotus e Maximus in posizione. Segnala i bersagli! Segnala i bersagli ai clou! Negozio! Lato destro! Vai! Così! Ecco! Ancheola! Facciamo! Vai! Session, stai uscendo da razio d'azione dei cloud, dovrai arrangiarti. Ricevuto, Salazar! Ci vediamo a Dante! Altri ISI! Ci stanno puntando! Che cazzo è questo rumore? Vieni qui, amico! Dobbiamo lasciare la strada! Spingi! Forte! Uno, due, tre, spingi! Cazzo! Ci è mancato poco, eh? Ho ancora le palle! E tu? Andiamo! Anthem è più avanti! Andiamo! È un vero delirio! Direi che questi non erano preparati all'inondazione. Come se li avessero abbandonati a se stessi. Non mi piace. Per niente. Drona di pattuglia! Giù! Da, merda! Figlio di puttana! Se ci portano, ci faranno a Brantelli! Oltre, sono squadroni della morte. Giustiziano gli sciacalli! Sta venendo qui! Ehi, guarda che sono qui! Ok, via! Ehi, occhio! Non uscire allo scoperto! Muoviti prima che ti veda! Non uscire allo scoperto! Non uscire allo scoperto! Aspetta! L'ISI controlla l'accesso alle fogne! Pensa a quello a destra! L'altro è mio! Grazie al cazzo! Via libera! Andiamo! Queste fogne passano sotto Anthem! Lavoro sporco allo stato puro! In posizione! Scalo ferroviario! Intensa attività! Controlla l'area! Tienimi aggiornato! Sentito! Forse parlavano di Sogti! Varemi stiano ricevendo un carico! Meglio muoversi! Salazar! L'ISI sta ricevendo un carico di nuovi Sogti vicino a te! Ricevuto! Sogriamare in Cicca ora! Sarcavani è! Trabullana! Oltre a volte in Trabanià! Nera Picea Rega! Menendez è qui! Spiazzo principale con capo ISI! Contatto Briggs! Trabanià! 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 Tratati! Grazie a tutti.